Ok, questa è la bricca prima del cuocere e vedremo come è dopo il cuocere Ora l'acqua con un po' di vino viene fuori per cuocere la bricca Siamo lasciando l'acqua per qualche tempo e poi lo faccio con un cuocere microfibre e vedremo come viene fuori E qui è l'ultimo risultato La bricca è riuscita E' un'altra cosa Solo un po' di vino E' acqua E' un po' di acqua E' un po' di acqua E' un po' di acqua Guardate questo Perfetto